Giornata particolarmente intensa in Casa Pescara, sul campo il primo giorno di lavoro nelle immagini per il tecnico Zauri all'appoggio dei Ulivi, lavoro prevalentemente atletico che verrà ripetuto con doppie sedute fino a domenica quando la squadra partirà per la prima parte del ritiro a Palena. Sulle fronte abbonamenti presentata la nuova campagna con uno slogan molto forte, ricominciamo. Tutti i dettagli sul nostro sito internet www.reteotto.it, alcune tariffe, la curva nord intera al pari della curva sud al prezzo di 155 euro, tribuna adriatica laterale 280 euro, adriatica centrale 335 euro, tribuna maiella laterale 535 euro, maiella centrale 745, il prezzo per le poltronissime è di 1395 euro. Sul fronte mercato, in altesa di alcuni annunci importanti, oggi è arrivata l'ufficialità del centrocampista classe 99, in prestito dall'Atalanta Tabi, come annunciato qualche giorno fa dal presidente ai nostri microfoni, mentre in uscita sono state perfezionate le operazioni con la Ternana, con l'attaccante Ferrante e il centrocampista Proietti.